Giorno della verità, quella contabile almeno per la regione Abruzzo, oggi all'Aquila nella sede della Corte dei Conti di via Buccio da Ranallo. Il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, l'assessore Silvio Palucci, insieme a tecnici e dirigenti, si sono infatti sottoposti all'esame in contraddittorio della relazione d'allegare alla parifica del rendiconto 2013 della regione. Ovvero al riaccertamento non fatto per il 2013, ma anche per il 2014, dei debiti pregressi, dei crediti non più esigibili, l'evenienza che il pronunciamento e le sentenze del 2015 della Corte dei Conti hanno considerato molto grave, tanto da rendere solo presunti con coperture incerte i bilanci. D'Alfonso è entrato nella sede di via Buccio da Ranallo senza rilasciare dichiarazioni. L'assessore Palucci sottolinea invece, prima di affrontare i giudici contabili, che è solo con questa giunta e questa maggioranza che la regione Abruzzo sta recuperando il tempo perduto con il riaccertamento contabile. Noi abbiamo fatto un lavoro cercando di recuperare il ritardo passato, tant'è che parliamo ancora di un bilancio a rendiconto dell'annualità 2013. Noi abbiamo avuto modo di fare sia il 2012 che il 2013, stiamo avviandoci a fare anche il riaccertamento dei siti del 2014 per proseguire e recuperare il tempo perso nel passato. È chiaro che ci saranno, immagino, delle osservazioni, anche perché abbiamo trovato un bel po' di problemi con un bel po' di debiti e pertanto immagino che questi verranno riportati e che vi saranno integrazioni e suggerimenti. Però fa parte di una gestione passata, direi remota per me. Sul tavolo anche un'altra partita, quella del rissanamento delle società partecipate. Anche qui la magistratura contabile aveva evidenziato nel luglio 2015 che buona parte di esse hanno bilanci in profondo rosso. Beh, intanto che noi abbiamo scritto qualche verità in più sulle partecipate, persino finalmente iscrivendoli nei documenti di bilancio dell'approvato bilancio di previsione del 2016, e anche in questo caso stiamo cercando di recuperare informazioni e trasparenze che erano piuttosto carenti nel passato.